Signore e signori buonasera, attenzione per piacere, sono illuminato in questo modo non perché sono stato arrestato, mi stanno interrogando dalla propria polizia, come si chiamano? Al commissariato, perché se sei così vedi che sei buio, avete sentito con chi sto? Nina? La luce è tutta a me. Sto con Nina soldato, sapete perché? Perché abbiamo il nuovo scioglilingue della serata. Nina, lo scioglilingue è questo. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. Rall mazzeppana a sta capa e cana pazza. Ranne cana pazza a sta capa razza. Eh, non lo so, ma allora è così. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. C'è stata una capa e una capa pazza. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. Non su palazzo c'è stata una capa e cana pazza. Oddio, una capa e cana pazza. Una capa di cana pazza sopra il palazzo. Esattamente. Rall mazzeppana a sta capa e cana pazza. Rall mazzeppana a sta capa e cana pazza. Velocemente, a Ranzu Palazzo c'è una cana pazza, a Ranzu Palazzo c'è una cana pazza, a Ranzu Palazzo c'è una cana pazza. Ranzu Palazzo c'è una cana pazza, a Ranzu Palazzo c'è una cana pazza. Ranzu Palazzo c'è una cana pazza. Mi sembra che sopra la panca la capa accanto, sotto la panca la capa crepa. E qui è uguale, Ranzu Palazzo c'è una cana pazza, a Ranzu Palazzo c'è una cana pazza. Rallo mazza e pane! Rallo mazza e pane! Asta capi cana pazza! Asta capi cana pazza! Ciao faccio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bye! Bye! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!